Il circolo culturale di Corviale, iniziativa contro la povertà e per un governo di cambiamento. A cinque giorni è dal d-day della prima seduta delle Camere per la scelta del Capo dello Stato. E nel pieno dello stallo politico post-voto, Bersani riparte da qui, con il governatore del Lazio Zingaretti e il candidato sindaco di Roma Ignazio Marino. Nel giorno in cui torna in piazza Berlusconi, rivendica il segretario la sua attenzione al Paese. Allora, non è vero che è tutto uguale. Ci tornerò su questo concetto, guardate. È questo che ci differenzia. Dice, hanno preso in giro perché diciamo contro la povertà, perché non hanno capito, non possono capire, perché per loro, quando si parla di povertà, ne parlano anche loro i conservatori. Ma in modo compassionevole, caritatevole. Paradossale, dice, una cosa che non mando giù, il fatto che da settimane ci spieghino che la situazione è drammatica, il governo nega buchi di bilancio. Ma non ci sono buchi perché si lasciano centinaia di migliaia di persone senza un pezzo di pane. I toni del leader del PD non possono salire oltre. È legato com'è alla promessa della ricerca di un Presidente della Repubblica condiviso. Probabile un nuovo incontro con Berlusconi martedì o mercoledì, alla vigilia del primo scrutinio. Il metodo della scelta sarà decisivo anche per tracciare il dopo. Bersani sembra insistere con la richiesta di avere un mandato pieno dal nuovo Capo dello Stato per andare in Parlamento a ricercare i voti. Ipotesi scartata da Napolitano, ma che trova tanti e crescenti scettici anche nel Partito Democratico. Il segretario cerca di tenere insieme il partito, ha incontrato nelle ultime ore d'Alema, reduce dall'incontro con Renzi, Veltroni, Bindi, tutti critici verso quella che qualcuno ha chiamato l'ostinazione, l'arroccamento di Bersani. E in molti, favoribili a un governo di scopo, di breve durata, che apre il PDL su pochi punti. Mentre il Sindaco di Firenze ripete di essere pronto, ha un ritorno alle urne prima dell'estate, tanto che i suoi si schierano apertamente per Romano Prodi al Quirinale, scelta che sarebbe di rottura con il centrodestra e chiuderebbe ogni dialogo sul dopo. A far fibrillare in queste ore il Partito Democratico è anche l'ingresso in campo di Fabrizio Barca, con un'ipotesi di rifondazione del partito e di ricomposizione a sinistra con Vendola, che per ora esclude lo scioglimento di sella nel PD.